Ed ecco qui il mio set di bellezza, lo sto usando da qualche settimana e la mia pelle è cambiata tantissimo, è più luminosa e le rughette sono molto meno evidenti Grazie all'acido ialuronico e alla vitamina C che rimpolpano e nutrono la pelle, idrata senza appesantire, quindi è ottima per una base trucco, anche per chi asciuga subito In più, tenetevi forte, contiene un estratto vegetale che corregge le macchioline delle occhiaie E se vi interessa c'è anche un codice sconto per voi che è SILIA15 e ve lo metto giù nell'info box Come vedete il set è composto da due creme, il contorno occhi intensivo, sono 15 ml e la crema idratante, liftante, sono 30 ml La texture è leggerissima, ingredienti naturali, l'acido ialuronico che è rimpolpante e idratante La vitamina C che oltre a dare al nostro aspetto un incarnato luminoso stimola anche la produzione di collagene Quindi un ottimo antirughe In più contiene anche il gel di aloe vera che va a creare una protezione per la nostra pelle È super idratante, leggerissima, si assorbe molto facilmente e quindi va benissimo anche per le pelli più giovani E durante la giornata la pelle non si lucida Le sto usando da circa un paio di settimane e il mio aspetto è migliorato tantissimo Questo è il contorno occhi La formula è leggermente più densa ma essendo un intensivo e nutriente deve essere più denso Ma nello stesso modo si assorbe velocissimo La profumazione è delicatissima quindi non dà assolutamente fastidio Si è assorbita lasciando la pelle levigata e luminosa Una combo davvero perfetta Il mio consiglio è sempre quello di fare dei massaggi verso l'alto Per aiutare la pelle a rassodarsi e a portare su eventuali cedimenti Per aiutare la pelle a rassodimenti il mio consiglio èskin Marco